Un grandissimo bacio a voi di Gossip News, ciao da Giulia. In questo momento penso alla vacanza, infatti si parte fra dieci giorni e si va verso gli Emirati Arabi con il mio compagno, il mio compagno. E poi a settembre si inizia a preparare il mio primo musical che si farà qui a Roma. Che tipo di musical è? Un musical basato sulla Roma Antica sotto le bombe, molto bello, insieme a figlio di Buzanca, Massimiliano Buzanca. Ti sentiremo cantare, ti vedremo ballare. Sto lavorando molto così posso far vedere che oltre ad essere una biondona con gli occhi azzurri so fare anche il mio mestiere. Quello lo sapevamo già insomma. Vabbè ma tutti quanti tante volte mettono la male lingua perché sono tanti anni che non sono in video e faccio vedere quello che so fare però adesso dal vivo live posso far vedere quello che so fare veramente.